Il cambiamento climatico ormai produce tutti i suoi effetti, lo vediamo tutti i giorni, sia con le bombe d'acqua, le alluvioni, sia con la siccità. Quindi è ora che l'uomo cominci veramente a prendere delle decisioni e a fare delle azioni in modo tale che si possa mitigare sia il tema delle alluvioni sia il tema delle siccità. Oggi se guardiamo per esempio la nostra provincia i tecnici ci dicono che la piosità non è calata rispetto a quello che è il trend del medio-lungo periodo. Nella nostra provincia cade qualcosa come un miliardo e mezzo di metri cubi l'anno e quindi credo che sia importante cercare di trattenerla, quella che ci serve per la vita dell'uomo. Perché vorrei ricordare che l'acqua è vita, senza acqua non c'è sistema produttivo, non c'è agricoltura ma soprattutto non si vive. Quindi credo che siccome le soluzioni che dobbiamo adottare sono di lungo, medio-lungo periodo e richiedono investimenti importanti ma anche tempo importante, credo che bisogna veramente assumere le decisioni il più rapidamente possibile. Oggi per questo 22 di marzo ci troviamo al depuratore che è una delle tante maniere che valorizzano questo bene, quello del trattamento delle acque, della loro depurazione, una delle tante azioni che intraprendete. Certamente, oggi siamo qua al depuratore perché è la fase finale del ciclo idrico integrato, cioè che parte con l'approvvigionamento, la distribuzione e poi la raccolta delle fognature e la depurazione. E' altrettanto significativo il fatto che siamo qua perché questo è un nuovo potabilizzatore, l'abbiamo inaugurato l'anno scorso, anche se era di lunga data, comunque l'abbiamo rinnovato totalmente, potenziato con le nuove tecnologie, le migliori tecnologie del momento e quindi siamo in grado di poter dire che oggi la città di Pesaro ha una depurazione che equivale al 97-98% di tutto il 100%. Quindi credo che sia un tema importante anche perché è doveroso, come diceva lei, il fatto che si possa rilasciare, si debba rilasciare l'acqua al fiume e quindi anche al mare, nelle migliori condizioni. E questo impianto credo che sia la dimostrazione. E' stato un investimento importante perché comunque abbiamo investito nella città di Pesaro e su questo depuratore oltre 25 milioni di euro, però i risultati credo che si vedano e se uno vede e fotografa l'acqua di rilascio che va al fiume e poi va al mare, ovviamente se ne rende conto. Diciamo che un tema rispetto che è collegato anche alla società, si parla molto di riuso dell'acqua di depurazione per uso agricolo e ad altri usi industriali. Purtroppo diciamo che il collocamento di questo depuratore, che è il più grosso che abbiamo, non consente delle grandi possibilità perché comunque siamo già vicino alla costa, vicino al mare e quindi non abbiamo zone agricole da poter utilizzare in questa direzione, anche se è un tema che sicuramente è all'ordine del giorno, anche degli studi, delle ricerche. Grazie.